Un investimento che parte soprattutto dal privato e che ci dà l'opportunità di riqualificare dopo 40 anni il cimitero di Sassari e il cimitero dell'Argentiera. Un progetto che ha l'obiettivo di riqualificare sia la parte interna e quindi tutta la viabilità dai marciapiedi alle strade e soprattutto la rete idrica. La cosa più importante è soprattutto il nuovo forno crematorio che darà risposte sia ai nostri concittadini e sia soprattutto a tutti i territori del nord ovest della Sardegna perché ci sono sempre una richiesta maggiore dal punto di vista delle cremazioni e quindi questo forno crematorio darà un'opportunità in più. L'altro aspetto importante è la riqualificazione del monumentale, del cimitero monumentale che è dove all'interno ci sono delle opere straordinarie di artisti e scultori importanti della nostra città e della nostra Sardegna e quindi che va tutelato. L'ultima parte che invece è all'interno del progetto è l'ampliamento e quindi il nuovo parcheggio e la nuova area con la riqualificazione anche di tutti quanti i loculi che nel monumentale e soprattutto anche nella parte vecchia del cimitero verranno ristrutturati e verranno riqualificati. Un investimento quindi importante che il bilancio comunale non permetteva sicuramente questi tipi di investimenti in cui che allo stesso tempo l'amministrazione comunale avrà delle royalty che gli permette di fare anche cassa all'interno del bilancio comunale.